Cerimonia alla sala consigliare del Comune di Alanno per la consegna di 12 borse di studio ad altrettanti studenti dell'Istituto Agrario Cupari di Alanno al loro primo anno dopo essersi brillantemente diplomati alla scuola secondaria di primo grado. Iniziativa promossa e finanziata dall'amministrazione comunale con una dotazione di circa 3.500 euro che consentirà ai ragazzi di gestire le spese per il convitto o per l'acquisto dei libri. Ed è questa solo una delle tante iniziative del Comune a sostegno di un istituto d'eccellenza nel panorama scolastico regionale presto, assicurato il sindaco Oscar Pezzi, verranno presi in esame problematiche riguardanti la viabilità. Con questa scuola stiamo lavorando da diverso tempo, da qualche anno, da quanto si è insediata questa amministrazione ma anche la precedente, per cercare di sponsorizzarle il più possibile. Mettiamo a disposizione tutte le nostre forze, anche economiche, per cercare che visto che un istituto superiore nel settore agricolo, che è l'unico nella provincia di Pescara, ma penso che forse anche in Abruzzo c'è uno solo nella provincia di Chieti, e qui arrivano ragazzi della Marsica, del Mediterraneo da Pescarese, della zona Vestina, e abbiamo solo qualche problema di viabilità, quindi di collegamento con gli autobus, ma cerchiamo di risolvere anche questo. E noi questo istituto cercheremo in tutti i modi di portarlo avanti di salvaguardare questa scuola che è veramente importante. Sentivo poc'anzi che il Sindaco giustamente ha detto che ha qualche difficoltà per il trasporto, per il collegamento. In questo tavolo vogliamo coinvolgere anche TUA, perché deve essere coinvolta TUA per tutte le scuole che sono dislocate sul nostro territorio, vedi Popoli, vedi Penne, vedi Alanno, scuole che sono molto molto importanti sulla nostra provincia, però devono essere attenzionati con un trasporto per facilitare ai ragazzi la mobilità. Intanto particolarmente soddisfatta la dirigente scolastica Dalitas Maria Teresa Marsili, anche per i numeri che negli ultimi anni sta raggiungendo la sua scuola. Dopo un lungo periodo di difficoltà nelle iscrizioni negli scorsi anni c'è stata in effetti ultimamente una ripresa, perché c'è stata una nuova attenzione al mondo dell'agricoltura in genere. Adesso gli iscritti proprio della sezione che riguarda Litas, Cuppari è di circa 250 unità, sono attivi tutti e tre gli indirizzi che il percorso di studi consente di seguire, vale a dire il percorso di produzione e trasformazione dei prodotti, quello di gestione dell'ambiente del territorio e quello di viticoltura ed enologia.